buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul mio canale questa mattina voglio parlare di revolute revolute è un'azienda fintech con sede a londra con regolare licenza bancaria che ha creato un'applicazione abbinata a una carta di debito carta di debito molto innovativa si può utilizzare nella vita di tutti i giorni si possono addirittura acquistare cripto valute convertirle direttamente nella valuta fiat di riferimento in questo caso euro e anche comprare eventualmente asset come argento oppure oro una caratteristica fondamentale di questa carta è praticamente non a canoni non ha costi nascosti a delle figli cambio valuta per chi la utilizza all'estero veramente minimi se volete provare e ottenere la carta completamente gratuita cliccate sul link che vi lascerò in descrizione e in pochi minuti potrete richiedere la carta comodamente a casa vi dico gratis perché se non cliccate sul link e fate tutto in autonomia ci sarà circa 6 euro di spedizione dall'inghilterra alla vostra residenza cliccando sul link è invece completamente gratuito allora il conto e la carta sono possono essere abbinati sia visa che a mastercard non ci sono limite di spesa c'è solo un limite di prelievo di 200 euro al giorno tramite banco ma anche lì senza commissione ovviamente ci sono diversi diversi conti alcuni a pagamento con delle agevolazioni maggiori ovviamente ma in questo caso io voglio solo parlarvi del conto free del conto completamente gratuito i vantaggi della carta è la possibilità di gestire tutto da smartphone i bonifici sono completamente gratuiti commissioni ridotte e nessun conto e costo nascosto a prescindere dal piano tariffario che andiamo a scegliere si potrà sempre creare un conto in euro totalmente gratuita con iban associato questo significa che abbiamo con avremo un conto associato a un iban e potremo ricevere e inviare bonifici il costo del benefico è pari a zero si possono inviare in 24 valute differenti per chi ama viaggiare è una carta veramente consigliata perché offre 150 valute differenti e il tasso di cambio immediato all'estero veramente ai minimi si può prelevare si è contanti in italia sia all'estero senza pagare commissioni ovviamente il limite resta sempre 200 euro al giorno col piano gratuito o 600 euro al giorno col piano o l'inclusive si possono trasferire valute a terzi si può inviare praticamente denaro in tutto il mondo usando 24 valute differenti e si può richiedere inviare bonifici gratuitamente impostando addirittura pagamenti ricorrenti tramite l'applicazione per quanto riguarda la sicurezza anche qui ai massimi livelli si può accedere l'applicazione e confermare tutte le operazioni tramite eventualmente impronta digitale se avete un smartphone quello supporta si può bloccare sbloccare la carta con un tocco durante la registrazione ovviamente vi chiederanno nome cognome inderizzi mail e la verifica della vostra identità quindi un selfie una foto della carta d'identità fronte e retro la carta revolut essendo una carta molto moderna permette di acquistare come detto prima cripto valute sicuramente le principali bitcoin litecoin ethereum bitcoin cash xrp ma ne hanno aggiunte veramente veramente tante bene questo vi faccio vedere come si entra nell'applicazione di revolut io lo uso con l'impronta digitale a questo punto ci troviamo nella home della mia applicazione dove possiamo vedere quanto come importo le spese che attualmente ho fatto ad oggi ho richiesto la carta fisica 5 euro 99 di spedizione mi raccomando cliccate sul link in descrizione per richiederla completamente gratuita allora cosa possiamo fare da questa parte noi possiamo innanzitutto cliccando in alto dove ci sono scritto carte vedere le nostre la nostra carta che abbiamo richiesto attualmente ne ho una in arrivo si potrà poi creare eventualmente delle carte virtuali e cosa servono si creano al momento dell'utilizzo si effetta un pagamento con questa carta virtuale finito il pagamento praticamente si auto distrugge ed è molto utilizzata per fare delle transazioni sicure perché è una carta che si auto distrugge possiamo tenere sotto controllo tutte le nostre le nostre le nostre spese verranno divise per categoria per riuscire a capire dove stiamo spendendo di più come potremo spendere meglio i nostri soldi come potremo risparmiare dei soldi il conto junior è adatto soprattutto ai più giovani diciamo dei 7 17 anni è un po come ricevere in modo innovativo la paghetta dei genitori infatti i genitori possono versare nel salvadanaio della paghetta del ragazzo delle piccole somme andiamo a vedere le funzioni che secondo me sono sono migliori ma soprattutto per per l'utilizzo che ne facciamo noi ad esempio noi del canale che utilizziamo le cripto valute possiamo cliccando in basso vicino alla r acquistare cripto valute direttamente col nostro saldo in euro possiamo scegliere di convertirlo in tutte queste valute bitcoin cash bitcoin ios e tiro litecoin e via dicendo possiamo acquistarle detenerle nel wallet all'interno della nostra applicazione al momento opportuno se vogliamo venderle e convertirle nella nostra valuta fiat la nostra è euro possiamo eventualmente acquistare anche asset come l'oro o l'argento vale la stessa cosa acquistiamo oro argento eventualmente durante un picco quando vogliamo possiamo convertirli in valuta fiat come in ogni applicazione fintech dedita al risparmio ci sono c'è la possibilità di mettere da parte dei dei soldi di creare un salvadanaio per raggiungere tutti i nostri obiettivi un'altra funzione utile che hanno inserito e la possibilità di avere del cash back cashback anche molto cospicuo se andiamo a vedere ad esempio carrefour 4,5 per cento lavazza 11,11 per cento gruppon 9 per cento se noi utilizziamo la nostra carta nel negli store di questi associati otterremo direttamente immediatamente un cash back sulla nostra applicazione possiamo creare possiamo inviare monete o addirittura anche cripto e quindi qualsiasi valuta a un nostro amico se ha un account revolut tramite un indirizzo email possiamo inviare bonifici completamente gratuiti in tutto il mondo si può si può creare un gruppo una community di spese condivise non so magari faccio un esempio stupido siamo 4 5 amici andiamo a mangiare al ristorante vogliamo poi dividerci le spese dividerci il conto possiamo creare un gruppo e fare questa suddivisione in tempo reale possiamo pagare abbonamenti ricorrenti che non so netflix se le utilizzate o qualsiasi altri abbonamenti che sono stati associati a revolut allora in alto vicino alla alla lente di ingrandimento possiamo vedere le nostre spese attualmente io ho solo quella da 5 99 perché l'ho appena richiesta possiamo dividere per categorie in modo più dettagliato o addirittura per paese per paese di dove è stato emesso il pagamento io 5 euro 99 che ricordo che è per la mia spedizione della carta ho pagato il regno unito sottolineo cliccate sul link in descrizione per averla completamente gratuita possiamo impostare dei budget di spesa dei limiti di spesa in modo tale da tenere più sotto controllo possibile le nostre entrate e le nostre uscite carta fisica vi farò vedere tramite l'applicazione l'utilizzo della vita quotidiana di questa nuova carta mi raccomando per supportare il mio lavoro iscrivetevi al canale digital critto strategi in alto a destra se cliccate su telegram potete accedere alla nostra community iscrivetevi commentate e attivata la campanellina grazie mille